Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mattia Girardini che mi chiede di parlare del film del 1996 di John Carpenter, Fuga da Los Angeles. Remake, sequel però del film che Carpenter ha fatto nel 1997, Fuga da New York, capolavoro incredibile degli anni 80, questo film del 1990 probabilmente non riesce a raggiungere la bellezza del film, del prototipo, ma l'ironia che mette nello stesso Carpenter nel, in un certo senso, ribaltare completamente le situazioni del suo 1997. Se lì il presidente aveva salvato il presidente strappando appunto la cassetta, qui invece viene mandato in Los Angeles, che è diventata anche questa praticamente una prigione chiusa, in sé praticamente viene mandato a salvare questa figlia del presidente, che però a quanto pare non vuole essere minimamente salvata perché è appunto diventata parte, diciamo così, derivoluzionaria all'interno di questa prigione, dove comanda il peruviano Cuervo Jones. Come nel primo, anche qui è costretto, visto che gli hanno ambientato un virus nel sangue, ha un tot di ore per poterla riportare. Quindi il nostro parte in mezzo a questa Los Angeles e il di lì poi imparte tutta l'azione. È un film completamente pazzo, come ho detto, perché se l'altro era girato quasi tutto di notte e cercava di dare appunto una spinta cupissima al tutto, qui invece diventa tutto molto più pop e il nostro Carpenter sembra quasi prendere in giro l'effetto speciale del computer, che vuole volutamente stigmatizzare nel loro essere fatti al computer, di un Carpenter che gira praticamente qualcosa, che vuole andare all'opposto di quello che aveva regalato col primo film, con il grandissimo Snakey Jena Plinsky. E quindi qui aggiunge un grandissimo comunque Steve Buscemi, la mappa delle star, al posto della facciona del grande Lee Van Cleef, qui abbiamo uno Stacy Cage a fare il colonnello che lo manderà, che è veramente uno stronzo. Un grande Cliff Robertson a fare il presidente, il mitico Peter Fonda a fare pipeline, quello che fa sempre il surf, una splendida Pam Grier a fare Hersch la Palm, senza dimenticare nella scena meravigliosa il chirurgo fatto dal mitico Bruce Campbell. Un film un'altra volta avanti coi tempi, un'altra volta che cerca di raccontare quello che voleva raccontare Carpenter a metà anni 90, c'è quel tipo di disfacimento di società che era diverso da quell'anni 80. Non si era più nell'era Reagan, un altro tipo di realtà, il nostro è sempre più anarchico, è sempre più incazzato con tutti, non salva praticamente niente, non salva il presidente, non salva i criminali, non salva un cazzo. E salva Jena Prinsky, che fa uno dei finali più belli della storia del cinema, una scena che facciamo come a Bangkok, che tira per aria appunto la birra e le ammazza tutti prima, è geniale, così come sono fatte benissimo tutte le scene d'azione, c'è poco da dire. Resta il fatto che secondo me Carpenter un'altra volta gira un filmone, un film un'altra volta che fa una fotografia politica impietosa dell'America di quel periodo, che cerca un'altra volta di voler essere più libera, ma che in realtà girava intorno a tutto il suo, alla sua mancanza di umanità, che in questo mondo viene ancora più spinta a questo presidente, che praticamente se il primo si capisce che era eletto, questo non viene più eletto, questo è diventato capo totale globale dell'America, sotto la religione, ed è inquietante tutta la scena iniziale con lui che viene portato praticamente, e ci sono le sedie elettriche accanto, che dice chi non vuole andare nella galera di Los Angeles, può benissimo amorevolmente essere ammazzato qui sulle sedie, ancora più distruttivo in realtà, ancora più anarchico, ancora più pessimista nel suo essere più colorato, questo fuoco da Los Angeles, dove appunto il nostro personaggio non può far altro che far iniziare tutto da capo. Nel cinema siamo uccisi solo della mia moglie, contenti come bambini, io mi sono divertito veramente come un pazzo, non ho trovato niente che non andasse bene, ripeto, secondo me è uno di quei classici film che in realtà vivono male, perché sono sempre sottomessi al capolavoro appunto nel 1997, ma che in realtà è veramente uno dei pochi sequel al mondo, reboot, chiamandemi il cazzo che mi pare, che ha veramente senso, nel senso che pur seguendo a volte, per dire sicuramente, quello che succedeva nel primo film, qui viene cambiato appunto e attualizzato tutto, a livello proprio dei nostri tempi, della metà anni 90, e quindi cercando 15 anni dopo di trovare un altro sistema e chiave di lettura per tutto, sia per i criminali che per appunto i governanti, chiamiamoli così, che però si nota sono praticamente peggio dei criminali, apertura verso appunto la sessualità, la protagonista, la persona più buona appunto è il trans di Pam Grier, oppure in un mondo in cui venivano tutti i dati, c'è la nostra Valeria Aguelino che si sacrifierà, che è musulmana incredibilmente, e poi c'è quella scena meravigliosa in cui entrano dentro appunto quest'ex ospedale chirurgico plastico, dove troviamo appunto Bruce Campbell che è un pazzo che deforma tutta la gente, e la cosa più triste da vedere è che i deformati in questo film in realtà sono la normalità, e in questo film praticamente Carpenter attacca tutto, l'edonismo sparato, la voglia di voler fare rivoluzione però attraverso in realtà qualcosa che non è più rivoluzionario, ma è semplicemente potere, attacca la religione, attacca gli stati come tali, attacca il mondo e dice che questo mondo è una merda e che va spento, uno dei classici film, il fanta, scienza, azione, che ora ci si sognano veramente. Il link è qua sotto, danno su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, il super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per Italia, e lo devo dire di questo fuga da Los Angeles non sarà il capolavoro che era fuga da New York, ma resta comunque uno dei maggiori esempi di come i registi riescono a parlare delle loro stesse opere, a rimetterle in discussione, il primo cupissimo nell'immagine, cupissimo nel vedersi, questo più solare, in un certo senso c'è addirittura il surfista, ma alla fin fine la coprezza di entrambi messa insieme praticamente diventa nero puro, un film assolutamente da non perdere pure questo, anche se tanto lo penso solo io.